EIWC, Portuguese Annual Calendar. Scopri l'eleganza e l'innovazione con l'EIWC Portuguese Annual Calendar. Questo modello è una delle novità più interessanti della collezione Portuguese di EIWC, una famiglia di orologi che vanta una lunga e prestigiosa storia, iniziata negli anni 30 del secolo scorso. Nel corso degli anni, il Portuguese si è arricchito di diverse complicazioni, come il cronografo, il calendario perpetuo, il tourbillon, la riserva di carica e il calendario siderale. Il Portuguese Annual Calendar, presentato nel 2015 in occasione delle celebrazioni per il 75esimo anniversario del Portuguese, è l'ultima aggiunta a questa illustre famiglia. Questo modello si distingue per il suo quadrante chiaro e ben leggibile, su cui spiccano le tre finestrelle semicircolari che mostrano il mese, il giorno e la data. Questa disposizione rende facile consultare le informazioni. La regolazione avviene tramite la corona, eliminando la necessità di correttori esterni, semplificando l'esperienza del proprietario. La complessità del meccanismo si rivela nella gestione dei giorni del mese. La leva di avanzamento per la data è mossa da uno scatto a molla, che varia la distanza percorsa a seconda del mese. Una camma programmata per l'anno definisce la lunghezza dei mesi, garantendo la sincronizzazione con il calendario reale. I mesi più brevi consentono alla leva di avanzamento di spostarsi di due giorni, mantenendo la precisione del calendario. Per febbraio, la camma non offre una soluzione, richiedendo una regolazione manuale. Tuttavia, questa operazione è semplice grazie alla corona. Il Portuguese Annual Calendar presenta una riserva di carica straordinaria di sette giorni. Il quadrante, disponibile in una gamma di colori tra cui argento, blu, grigio antracite, verde e bianco è ornato da una minuteria di tipo «Scement de Fer», così chiamata perché ricorda i binari ferroviari. Se siete alla ricerca di un orologio che vi accompagni per tutto l'anno, senza mai sbagliare, il Portuguese Annual Calendar è quello che fa per voi.